Record di partecipanti alla 26esima edizione dell'attraversata in Gerarona, 800 gli iscritti alla gara ammatoriale sui 1200 metri tra la sponda lombarda e quella piemontese, 200 gli agonisti che si sono cimentati sull'andata di ritorno di 2400 metri, 50 infine i bimbi che con un tutor hanno notato per 400 metri. Vediamo subito nell'agonistica il successo di Daniele Titta, 15 anni, di Bergamo e invece per quanto riguarda la categoria femminile il primo posto per Jack Lee Fusato, 17 anni, di Rovagnate. Per le disabili il primo posto per la friulana di Spilimbergo, Katia Aire, 48 anni. Infine per quanto riguarda la non competitiva il successo è andato a Luca Brighenti, 20 anni, di Villadogna e nella categoria femminile invece vittoria per Gio Di Mistri, 13 anni, di Bergamo. Ricordiamo che era organizzata dalla Proloco di Arona.